Mangiar bene per vivere meglio, negli ultimi tempi è aumentata a dismisura l'attenzione verso l'alimentazione e con essa anche informazioni non corrette. E allora poi con l'arrivo della bella stagione è partita alla corsa a rimettersi in forma, a volte anche con metodi non corretti e soprattutto con metodi non salutari. E allora oggi vogliamo parlare proprio di questo, di alimentazione. Leonardo lo facciamo dando il benvenuto al nostro ospite, il dottor Matteo Russo, biologo nutrizionista. Buongiorno, buongiorno Matteo, benvenuto, grazie. Buongiorno, buongiorno Paola. Ben trovato, ben trovato Matteo, prego, accomodati. Accomodiamoci. Allora, partiamo subito. Si parlava di errori, di comportamenti non corretti, non salutari. Matteo, quali sono gli errori più comuni da non commettere quando si parla di alimentazione? Io credo, Paola, intanto nel ringraziare gli amici di Padre Pio TV, nel ringraziare te, nel ringraziare Leonardo dell'Invito, che tu abbia presentato già in maniera esaustiva quale sia la problematica più importante, ovvero quella delle corse. il fatto di provare nel minor tempo possibile, adottando delle strategie spesso eccessivamente restrittive, perché il termine restrittivo da solo non rende, è necessario aggiungere qualcosina vicino proprio per dare l'idea della corsa che si fa. E quindi l'errore principale è quello di voler ottenere un risultato in tempi brevi. Devo dire che questo poi a che cosa porta? Porta a un aspetto secondario, che è per una questione legata a falsi miti, un po' come appunto stavi dicendo, e a ideologie che sono figlie della nostra società, una società più industrializzata e fatta di social, ovviamente a che cosa noi ricorriamo, in questo momento sto vedendo una pizza, all'eliminazione più o meno totale dei carboidrati. Quindi quando parlo di carboidrati, soprattutto di pane e pasta. Quindi questo è generalmente l'errore più comune. Quindi si evita di mangiare pane e pasta per perdere peso in tempi rapidi. Assolutamente. Io direi che tante volte i nostri genitori, i nostri nonni, ci insegnano nella nostra cucina tradizionale, a volte noi lo dimentichiamo. Basti pensare che per cucinare la pasta noi abbiamo necessità che l'acqua sia in ebollizione e quindi già questo semplicemente ci deve far pensare che nel momento in cui noi mangiamo, ad esempio un piatto di pasta o di riso appunto, non immettiamo nel nostro organismo soltanto quella quota di carboidrati, fibro, proteine che siano, ma immettiamo anche acqua necessaria chimicamente alla cottura. E quindi di conseguenza questo ci fa incorrere in un errore di valutazione che è quello poi del peso sulla bilancia. Sentiamo spesso parlare di diete iperproteiche. Allora proviamo a fare un po' di chiarezza come dobbiamo comportarci, ma soprattutto quante proteine dobbiamo assumere? Allora, questa è una domanda dove insomma io ti ringrazio per questa domanda. Perché? Perché in questo momento storico dove noi siamo bombardati da prodotti con la dicitura proteica, un po' diciamo questa notizia, questa serie di notizie diventa forviante. Nel senso che prima di tutto rispondo alla tua domanda, ovvero il fabbisogno proteico giornaliero si attesta, e non me ne vogliano i colleghi, ma in questo momento dobbiamo come dire dare una risposta che sia il più semplice possibile e dobbiamo un attimino fare le cose appunto facili, è generalmente di un grammo per chilogrammo di peso corporeo. Quindi nel momento in cui io ho un soggetto davanti, un soggetto davanti con una costituzione fisica media, quindi con una corporatura media che pesa ad esempio 80 chili, faccio l'esempio sul sottoscritto, il fabbisogno proteico è di circa 80 grammi di proteine. E' chiaro e, vero e, che questo fabbisogno proteico cambia a seconda se parliamo di attività fisica più o meno intensa, se parliamo di soggetti in fase di accrescimento, e quindi il fabbisogno proteico sale, se parliamo di soggetti anziani o se parliamo ad esempio di donne in gravidanza. Ora io debbo necessariamente fare una precisazione. Ahimè, negli anni si è fatta una guerra alle proteine. Purtroppo, questo dico purtroppo perché nel tempo in realtà la scienza ci ha abbondantemente dimostrato che così come la guerra ai grassi, allo stesso modo la guerra alle proteine è stata, diciamo, una guerra dei poveri. Le proteine sono i mattoni di costruzione del nostro organismo, quindi quando noi parliamo di proteine non dobbiamo solo pensare alla massa muscolare, questo è l'errore che si fa. Noi dobbiamo pensare alle proteine come sostegno fondamentale, per esempio nelle ossa, per esempio nella pelle, per esempio nei capelli, per esempio in tutte quelle cellule degli organi interni, quindi nel ricambio generazionale, per cui un adeguato introito proteico è assolutamente fondamentale. Dobbiamo pensare che, leggevo un articolo proprio qualche giorno fa, che ad esempio nell'insufficienza renale cronica, ovviamente in accordo con il nefrologo, comunque con il medico, da un punto di vista nutrizionale si tende sempre, sempre, eccezione fatta per gli stadi finali o in alcune patologie, diciamo, veramente molto gravi, quindi gravi negli stadi molto avanzati, a tenere un introito proteico pari a quello che ho appena citato, quindi 1, 1.1, 1.2. Perché? Perché si cerca, chiaramente, diciamo in un monitoraggio continuo dei valori ematochimici, di fare in modo che il soggetto non perda massa muscolare, perché questa è la problematica più grande. Questo per quanto riguarda il fabbisogno proteico, che chiaramente, come dicevo, sale in uno sportivo o in una persona che ha una particolare necessità. E allora che cosa succede? Succede che il marketing, che cosa è successo? Ha utilizzato questa informazione, perché noi nella nostra mente abbiamo associato proteine, dimagrimento, carboidrati in grasso, ha utilizzato quindi questo spot in moltissimi prodotti, dove probabilmente c'è un'aggiunta di un X quantitativo di proteine, non ci interessa la modalità, ma quel prodotto che, diciamo necessariamente, ha un quantitativo di proteine maggiore, necessariamente, per rendersi appetibile, deve presentare, deve avere al suo interno un certo quantitativo pure di carboidrati, a volte anche di grassi. e magari lì dove i carboidrati non salgono di pari passo, sale che cosa? Gli addensanti, gli edulcoranti, e quindi noi alla fine andiamo a mangiare un prodotto che comunque risulta essere meno sano rispetto agli altri. Chiarissimo, mi ha colpito il fatto che su un soggetto, per un soggetto di 80 kg, 80 grammi di proteine, sto pensando, è una fettina di petto di pollo. Allora, allora, no, no, perché, giusta osservazione, perché molto spesso noi facciamo questa associazione mentale, 100 grammi di carne, 100 grammi di proteine. Allora, intanto noi dobbiamo chiarire un concetto, che quando parliamo, ma questo anche nelle diete, quando lo dico con i miei pazienti, dobbiamo fare riferimento a una parte edibile, quindi a quella che io posso mangiare, e va pesata cruda. Ok. Se io prendo 100 grammi di carne, mediamente il quantitativo di proteine varia tra i 20, 22, 24, 18, se una carne è più magra, quindi per arrivare a 80 ci vogliono più 100 grammi di carne. Ecco. Questi 20 grammi di proteine, per cui io non le devo prendere tutte dalla carne. Devo anche ricordare che mediamente, in 100 grammi di pasta, comunque, a seconda poi del tipo di grano, eccetera, eccetera, del tipo di farina, comunque anche la pasta, a un certo quantitativo di proteine, che sia dell'ordine di 10, 12, 14 grammi. Quindi io nel computo totale, nonostante poi le proteine della carne o delle uova e del pesce siano magari nutrizionalmente più complete, ma non è oggi la sede per spiegare questo concetto, e quelle invece dei cereali e della pasta manchino di alcuni, si dice appunto alcuni amminoacidi, nel computo totale, nella conta totale, conta sia uno che l'altro. Chiarissimo. Allora, alla luce di quello che tu hai detto, ci sono cibi che fanno ingrassare o cibi che fanno dimagrire? Ad esempio, mi viene in mente, quel formaggio light, quella pasta light, quello yogurt light, ne posso mangiare quanti ne voglio? Quelli mi fanno dimagrire, non mi fanno ingrassare? O davvero sono nella confusione del pallone più totale? Allora, per noi nutrizionisti, e non me ne vogliano i colleghi, se io adesso rispondo in maniera un pochettino netta, perché altrimenti bisognerebbe fare altre sei trasmissioni su questa cosa, quindi dobbiamo essere anche chiari, soprattutto per chi ci ascolta. Quello che fa la differenza in primis, in primis, sono le calorie. Allora, una caloria è una caloria? Una caloria non è una caloria. Se io ho queste mie due mani, e immagino, oggi ho il 5 davanti, quindi immagino 500 calorie qui e 500 calorie qui. Io posso avere 500 calorie qui di un panino di quelli magari con maionese, ketchup, eccetera eccetera, senza aggiungere, insomma, bevande eccetera. Dall'altra parte io posso dare al mio paziente magari 100 grammi di pasta, condita con olio crudo e parmigiano, con le verdure, con un sughetto, magari ci aggiungo un secondo, magari ci metto anche un frutto alla fine, e anche magari un pezzetto di cioccolato fondente. Ora, diciamo, senza stare lì a fare la conta delle calorie, è chiaro che nutrizionalmente abbiamo due proposte completamente differenti, perché una è una bomba di calorie, quindi mettiamo solo calorie, ma nutrizionalmente scadente. L'altra è un insieme di calorie nutrizionalmente più proporzionate, perché metto più nutrienti, ma soprattutto quello che io voglio che non si dimentichi di acqua, per i processi di cottura che dicevo prima. Per il contenuto dei vegetali di acqua, di vitamine, di proteine e carboidrati, di un impatto sulla glicemia e sugli ormoni più controllato. Faccio una piccola parentesi, ritornando alla domanda precedente, ma sempre rimanendo in quest'ambito a proposito di conteggio calorico, che è vero pure che in alcune situazioni, anche se io davanti ci avessi un soggetto che non è particolarmente allenato, o che magari ha uno scarso livello di attività fisica, ricorrere a un quantitativo di proteine leggermente superiore rispetto alla media, mi può aiutare a diminuire la quota calorica di carboidrati, soprattutto i grassi, per fare in modo che la dieta sia comunque più appetibile, che magari sia comunque sostenibile, che raggiunga meglio il senso di sazietà e per questioni ormonali legate soprattutto alla glicemia e all'insulina. Mi si è aperto un mondo. Ok, allora andiamo in pubblicità. Adesso io vado a buttare la mia merendina che avevo preparato. Vero, vero. Sì, sento che stanno facendo sparire tutto. Sì, scondendo. Sta arrivando il lanciafiamme. Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo insieme con il dottor Matteo Russo per continuare a parlare di questo argomento così interessante. Restate con noi. Ed eccoci ritornati ancora insieme al dottor Matteo Russo, biologo nutrizionista. Stiamo facendo una carrellata su alcuni stili di vita sostenibili, potrei anche dire, su cibi sostenibili. Insomma, ci si è aperto un mondo, potremmo dire. E allora, continuando la nostra chiacchierata, Matteo, veniamo a una domanda, credo anche che molti telespettatori magari si sono posti sentendo le tue parole. Ma saltare i pasti? Ecco, magari oggi non faccio il pranzo, oggi non faccio la cena. Aiuta a perdere peso? Allora, io ho una caratteristica, quella di essere un grande osservatore e ascoltatore. Io ti ringrazio per la parolina magica che hai usato. Sostenibile, sostenibilità. Quello che rende un percorso vincente è la sostenibilità. Il fatto che io possa essere attinente alla dieta nella maniera più facile possibile. Allora, arrivo alla tua domanda. Perché faccio questa premessa? Perché, chiaramente, che cosa succede? Succede che io, da nutrizionista, rispetto a un mio paziente, nel momento in cui viene a chiedere aiuto, perché il paziente viene a chiedere aiuto, non solo per questioni magari di tipo medico, o magari ematologico, o diciamo di tipo endocrinologico. Un aiuto, tante volte, legato proprio alla gestione dei pasti. E quindi, se un soggetto ha la necessità di saltare un pasto, per esempio per questioni lavorative, non c'è assolutamente problema, perché nel compito e nell'organizzazione totale il nutrizionista lo fa. Il discorso qual è? Allora, io non sono uno psicologo, assolutamente, ma il comportamento alimentare e i disturbi del comportamento alimentare rientrano assolutamente nell'ambito di mia competenza. Quando dico mia, io non parlo di Matteo Russo, parlo della nutrizione e del nutrizionista. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che certi atteggiamenti il nutrizionista deve conoscerli. Quindi il saltare il pasto presa così per rispondere direttamente alla tua domanda sicuramente non aiuta. Ma se noi consideriamo un saltare il pasto come un contestualizzare, una sorta di digiuno, questo può venire veramente in nostro aiuto. Allora, perché dicevo, io non sono uno psicologo, ma devo conoscere la materia? Perché noi abbiamo parlato di calorie, abbiamo parlato dell'aspetto nutrizionale degli alimenti, abbiamo parlato di proteine, ma non possiamo dimenticarci dell'aspetto mentale. Molto spesso, posso quasi affermare nove volte su dieci, le questioni alimentari e di organizzazione hanno una radice più profonda, che è quella emotiva, emozionale, quella legata al nostro intimo, legato a difficoltà sul lavoro, nei rapporti con i figli, eccetera, eccetera. E quindi il cibo diventa quasi un rifugio. Allora molto spesso questo saltare i pasti ci fa autoconvincere della diminuzione dell'introito calorico. Quindi io penso di aver mangiato di meno, ed effettivamente ho mangiato di meno. Ma dimentico che poi magari il pasto successivo, l'organismo bussa alla mia porta, perché quelle calorie mancano, e quindi di conseguenza io metto quello e l'altro punto. Infatti uno degli strumenti in assoluto veramente più utilizzati, ma più, per lasciare di passare il termine, pericolosi, è il diario alimentare. Perché? Perché il diario alimentare mette davanti a se stessi. È uno specchio. Quando io chiedo un diario alimentare a un paziente, a un ragazzo, a una ragazza, vengono fuori sempre delle cose straordinarie. Io ti posso assicurare Leonardo che se ti chiedessi di fare un diario alimentare oggi stesso, stasera, e se tu non lo facessi, tu domani non sapresti raccontarmi la tua giornata alimentare. L'avresti dimenticato. Questo te lo posso dire con certezza per esperienza. Ma non perché noi, come dire, siamo si esvogliati, perché i ritmi sono talmente veloci che nel passare dei giorni si fa presto che qualcosa ci sfugga. Allora, il diario alimentare permette giornalmente anche di segnarmi se io magari in quel momento ho preso quel pacchetto di pre-dichere che sta a volo, che altrimenti io lo dimenticherei. Ed è questo uno dei motivi per il quale poi la gente tende ad ingrassare comunque o a non avere risultati. Perché si perde qualcosina per strada. Quindi, per concludere questo discorso, il digiuno non programmato non è certamente una buona idea. Il digiuno programmato, so di per certo di rispondere a tanti dubbi, a tante domande, è certamente una strategia nutrizionale anti-aging. Nel senso che nel momento in cui io metto il mio corpo in una restrizione calorica, quindi metto meno calorie di quelle che servono, Ora, questo metto meno calorie lo posso programmare in un digiuno di tot ore, in una dieta a mima digiuno, cioè vado a scalare nei giorni. L'importante è che le calorie diminuiscano e che io poi non ne vado a mettere altre. E che intercorra un tempo X tra un pasto e l'altro, tale da far sì che le mie cellule intestinali vadano più facilmente e precocemente in una sfera definita di autofagia, cioè si rinnovino. Infatti si parla di digiuno e di strategie di digiuno anche nella cura, come cura oncologica. Proprio per questo motivo, cioè per fare in modo che le nostre cellule gli si dia un pochettino di riposo in quel momento, in quel arco di tempo dove non c'è un transito di alimenti, hanno la possibilità, le nostre cellule, di diminuire il loro, come dire, quell'eccesso metabolico, di andare ad eliminare le tossine, di ringiovanirsi, quindi di utilizzare quei processi di morte cellulare programmata per sostituirsi e quindi di rendere, di far sì che il sistema immunitario diventi più forte. Ho parlato di sistema immunitario perché l'intestino è lì dove, grazie alla nostra forza batterica, diciamo noi andiamo a costruire i guerrieri che ci proteggono. Stiamo parlando di alta ingegneria qui comunque. Allora, voglio aprire una parentesi, però credo che non sia una parentesi perché è un argomento a quale davvero penso potremmo dedicare non sei ma dieci puntate. Donne e alimentazione. Allora, guarda Paola, io penso che questa domanda mi tocchi particolarmente. Io a questa domanda cambio completamente atteggiamento, nel senso che noi ci conosciamo anche personalmente, cerco di essere sempre leggero e sorridente sulle questioni. Quando mi si parla di donna alimentazione il mio atteggiamento cambia, divento molto più duro. Mi spiego meglio. Ci sono questioni ormonali nella donna come per esempio il ciclo mestruale stesso, come per esempio il periodo della perimenopausa e della menopausa, dove gli ormoni cambiano e la donna è bombardata da questi ormoni. Questi ormoni hanno una grandissima influenza a livello psichico. Quindi la donna, dalla nascita fino per tutta la vita, si trova ad affrontare quello che è una visione di se stessa del suo corpo e non dimentichiamolo, sempre legata a questioni emotive superiori, dove si trova sempre in guerra con il suo corpo. Ma non è una guerra inventata. Perché dico che divento duro? Io divento duro con la sfera maschile. Io non voglio fare filosofia e non voglio assolutamente uscire dal seminato perché non mi compete, ma lo devo fare perché questo lo vedo anche a studio quando per esempio a studio mi si presentano le coppie, mi si presentano marito e moglie e mi si presentano per esempio fratelli e sorella o padre e figlia. Noi maschietti dovremmo farci qualche domanda in più perché la donna è una sfera veramente, è un universo che noi non possiamo comprendere. Basti pensare che una donna per una vita magari ha avuto il ventre piatto, a un certo punto a 40 anni si trova con una pancia così e i fianchi così. Immaginate da un punto di vista emotivo che cosa può significare. Noi uomini siamo molto più leggeri, non ci interessa se ci sentiamo gonfi, non gonfi, magari ci scherziamo pure con gli amici, no? Il buon Fantozzi davanti al televisore ci insegnava la mentalità dell'uomo. La donna no. La donna nel momento in cui si sente un pochettino più gonfia, non si vede bene, traduce queste sue emozioni chiaramente in una maniera, diciamo, va a interiorizzare. E allora che cosa succede? Questo rapporto della donna con il cibo diventa purtroppo un crocevia per tutta la vita. Si dice infatti che i comportamenti alimentari, i disturbi del comportamento alimentare, trasmigrino, cioè cambiano per tutta la vita, cioè passo da dei punti in cui mi abbuffo a dei momenti in cui non mangio assolutamente nulla. Noi uomini questa cosa non la ragioniamo mai, ma per una donna si apre un mondo. Certo. E quindi di conseguenza alcune tematiche nutrizionali, endocrinologiche e ginecologiche, come per esempio una sindrome dell'ovaio micropolicistico, come per esempio l'endometriosi, come per esempio la perimenopausa e la menopausa, determinano delle cascate ormonali che l'alimentazione ci può aiutare, cioè viene in nostro aiuto. Ma chiaramente abbiamo bisogno di un professionista per non incorrere in quei famosi comportamenti dove tolgo tutto, contento dei primi chili della bilancia e poi ciao. Riprendo quelli e gli altri pure. E riprendo quelli e gli altri pure. Allora, siamo alle battute finali, avremo tante altre domande da farti. Matteo, però, come possiamo concludere? Non lo so, dacci qualche istruzione per l'uso. Allora, l'istruzione per l'uso è questa. In realtà i filosofi del passato ci hanno sempre, come dire, ci hanno fatto arrivare questo messaggio in filosofi e medici dell'antichità. Siamo quello che mangiamo. Oggi, diciamo, qualche mio collega, maestro nell'alimentazione, giustamente dice, siamo quello che non mangiamo. Quindi, quello che io voglio dire è che la verità sta nel mezzo. Quindi, quello che paga è l'equilibrio. Perché l'equilibrio è quello che ci porta alla lunga a far sì che una dieta sia sostenibile. Quindi, per chiudere, se questo percorso alimentare che io sto percorrendo è un tragitto, è una passeggiata, è un cammino che viene facile, è la strada giusta. Se incontro delle difficoltà o noto dei raptus, lasciatevi passare il termine, vuol dire che non è quella la strada. E soprattutto, un passo libero o due pasti liberi, poi potremmo veramente parlare e virgolettare di questo libero che in realtà libero, cioè un concetto che non esiste, non ha mai fatto male a nessuno. Per cui, assolutamente, se nella convivialità abbiamo il piacere di condividere, vivere una pizza, un buon bicchiere di vino e che sia il dolce che magari nostra madre ha preparato con così tanta cura, ben venga. Perché poi la sfera emozionale, ripeto, è quella che bussa alla porta con gli interessi. Hai detto equilibrio, ma io aggiungerei rivolgersi ai professionisti. E sicuramente, ecco, io ti ringrazio perché poi altrimenti ti alzo la palla, visto che tu comunque la palla volo la pratichi. Di parte, assolutamente sì, perché ecco, una delle cose in assoluto che mi capita a studio è quella che il paziente esca dicendo, dottor, ma io mangio molto di più di prima. Ecco, questo è un classico. Per cui, grazie a voi. Grazie a voi. Il nostro professionista di fiducia, Matteo Russo, biologo nutrizionista, ti strappiamo una promessa, torna a trovarci quando vuoi. Assolutamente sì. Perché parlare di alimentazione è di... Con piacere. Ecco, siamo qui davvero ad accoglierti con grande gioia e piacere. Di nuovo linea alla regia e poi di nuovo insieme.